Ciao ragazzi sono Nicola e oggi sono noi Ci scusiamo perché non abbiamo potuto fare molti video in questa vacanza Perché non c'era molto wifi, perché lui, questa bella persona, li ha sprecati tutti Giustamente Ciao E ragazzi ci scusiamo Sabato io e questa bella persona ci andiamo a tagliare i capelli Lunedì partiamo per la Sardegna quindi il vlog lo facciamo Però in Sardegna non sappiamo quanto li facciamo perché non ci sarà molto wifi Quindi ragazzi li carichiamo quando arriveremo a casa Ciao ragazzi Da Nicolo Fanelli a Tomoso Fanelli è tutto E ci vediamo il prossimo video